Quanta soddisfazione per aver giocato sui due gradi altissimi per aver tenuto questa squadra, ci avete fatto anche un pensierino a resta, però c'è un grande orgoglio per le portazioni. Sì, ci abbiamo pensato, alla fine quando eravamo avanti 2-1, comunque se devo essere sincera, quando eravamo avanti 2-1 è venuto un brivido, perché comunque contro una squadra come Ponegliano riuscire a portarsi avanti non è da tutti, quindi c'è un po' di amaretta perché alla fine veramente proviamo a fare l'impresa, poi io ero una squadrona e lo sapevamo, però comunque siamo state brave, eravamo lì e ci dà tantissimo morale questo. Questa è una prestazione, è un punto che possono dare una sposta a voi e anche a tutto l'ambiente, il pubblico compreso? Sì, oggi il pubblico era spettacolare, giocare in un palasetto così pieno è veramente bellissimo. Ma dovremmo dire che giochiamo sempre con Ponegliano così vengono tutti a riempire il palazzetto, però sono contenta, dà sicuramente morale soprattutto a noi, anche se è un punto solo, però dà veramente un punto morale. a Roma Grazie a tutti.